Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, spero che tutti condividiate questo avviso con quanti più italiani possibile per evitare eventuali disastri dovuti al maltempo. Grazie. Quindi, come vedete nella foto davanti a voi, le regioni settentrionali e centrali dell'Italia saranno esposte a temporali molto forti a partire dalla mezzanotte di oggi e questi temporali aumenteranno di intensità nelle prime ore della mattina di domani, martedì 21 maggio 2024. La pioggia cadrà in quasi tutte le regioni e sarà accompagnata da forti tuoni, forti venti e dal rischio di caduta di chicchi di grandine, oltre al rischio di inondazioni. Pertanto, a partire dalla mezzanotte di stasera e soprattutto nelle prime ore di domani mattina, martedì, molto maltempo, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria. Avvertiamo fortemente del rischio di improvvise alluvioni, soprattutto al nord, e del rischio di caduta di grossi chicchi di grandine. Cercheremo di informarvi in seguito per eventuali altre novità importanti.